Abbiamo incontrato Idea Pieroni al Moreno Martini di Lucca, dove si allena in vista della rassegna continentale in Finlandia dal 12 al 16 luglio. La carabiniera barghigiana va ad affrontare la competizione con rinnovata fiducia dopo il 1,85 m di Parma. Forse siamo quasi fuori dal tunnel nel quale era finita. Sì, sì, sicuramente le sensazioni sono sempre meglio. Diciamo che speriamo bene in questi europei, comunque sono gli ultimi europei di categoria giovanile. e quindi ci spero veramente tanto e sono contentissima di andare a farli e di partecipare con la squadra italiana a questi. Chiaro che le speranze allo stadio Le Pavara di Espo sono quelle di ben figurare, ma anche di migliorarsi per avvicinare il primato personale di 1,90 che risale ormai ad oltre tre anni fa. Sì, sono nei carabinieri da due anni e mezzo e grazie a loro comunque posso fare tutto questo, posso fare atletica. Ho cambiato allenatore per un motivo un po' tecnico e più che altro però a livello morale non stavo molto bene a Siena, che appunto mi ero trasferita con un allenatore di Siena. Facevo molti spostamenti in giro per la Toscana e in giro per l'Italia e non riuscivo comunque ad avere un equilibrio mentale e fisico comunque dove stavo. E quindi ho deciso di cambiare e la scelta appunto di allenarmi con Luca è stata imminente appena ho deciso di tornare a Luca perché è sempre un allenatore che ho sempre comunque visto come un allenatore ben preparato, che seguiva bene i suoi atleti e infatti si è rivelato appunto come pensavo, un bravissimo allenatore e una bravissima persona con cui mi trovo molto bene e sono contentissima di aver preso questa scelta e di aver iniziato questo percorso con lui.